Buongiorno bambini, buongiorno! Allora il maestro Giancarlo oggi è venuto in campagna e vuole farvi vedere alcune cose sulla primavera. Guardate, da questa parte le foglioline degli alberi sono ancora molto piccole, vedete? Stanno crescendo piano piano, molto lentamente. Dall'altra parte bimbi, su questo argine guardate l'erba, l'erba della primavera che sta crescendo sul terreno molto lentamente. In mezzo all'erba vedrete fiorellini gialli, fiorellini bianchi, margherite bianche e proseguendo su questo argine potete notare l'erba che è di colore verde e però non è molto alta perché siamo ancora in primavera e quindi l'erba non è ancora cresciuta completamente. Andiamo ancora un pochino avanti e troviamo un altro cespuglio meraviglioso di margherite. Come sono queste margherite? I petali delle margherite sono bianche e la parte centrale della margherita è di colore giallo. Bimbi, allora proseguiamo con il discorso della primavera. Guardate questo bellissimo albero di melo. Se potete notare, guardate bene il fiore del melo, è di colore bianco con delle piccole sfumature di colore rosa. Adesso andiamo a vedere la pianta del pero. Anche la pianta del pero ha delle di colore, i fiori sono di colore bianco con delle piccole sfumature di colore rosa. Sono molto simili ai fiori di melo. Ora andiamo a vedere i fiori delle fragole. Eccoci bambini, guardate le fragole, la piantina delle fragole e i fiori delle fragole. Come potete vedere i petali dei fiori delle fragole sono bianchi e la parte centrale è gialla come le margheritine. Ora dobbiamo lasciare passare un po' di tempo e vedrete che dal melo, dal pero e dalla pianta di fragole arriveranno i frutti. Aspettiamo! Buongiorno bimbi, ma sempre buongiorno? Ma no! Siamo sempre nella stessa diretta. Guardate bambini, vi avevo fatto vedere il fiore di pero. Guardate, sono passati tanti giorni e dal fiore è arrivato un bellissimo frutto, la pera. Poi andiamo a vedere il melo. Ed eccoci bambini, bambini, guardate, dal fiore di melo è arrivato di nuovo un bellissimo frutto giallo, di colore giallo, la mela. Ovviamente prima dicevo sono passati un po' di giorni, invece devono passare un po' di mesi. Adesso andiamo a vedere cosa succede nella piantina della fragola. Ed eccoci bambini, dalla piantina della fragola che vi avevo fatto vedere prima, dal fiorellino bianco con i pietali bianchi e la parte centrale gialla, è nato un bellissimo frutto di colore rosso, la fragola. Ed eccoci bambini, adesso non vi chiedo, non vi mando una scheda da compilare e da colorare, ma semplicemente vi chiedo di fare un bel disegno, come avete visto l'erba che è ancora piccola e nasce ed è nata diciamo da poco e quindi ancora molto bassa, di disegnare un bel albero di melo con la mela, un bel albero di pera con la pera e una piantina di fragole. Ok bambini, io sono sicuro che voi riuscite a disegnare benissimo anche se non vi mando la scheda. Quindi vi auguro un buon pomeriggio e aspetto i vostri lavori. Ciao!